Ciao a tutti! Allora oggi volevo rendervi partecipi di quello che è per me nell'ultimo periodo la mia skincare routine serale. Quindi vi faccio vedere tutti i prodotti che utilizzo io la sera, magari non lo faccio proprio tutti i giorni, però un giorno sì e un giorno no. E questa routine è solo ed esclusivamente per chi ha voglia di prendersi cura di sé la sera e non per chi ha solamente un minuto e poi vuole andare a dormire, per chi ha proprio voglia di stare lì e coccolarsi un po' davanti allo specchio. Inizio innanzitutto con le salvette struccanti alle vitamine per viso e corpo. Sono salvette struccanti e rinfrescanti, quindi servono d'estate per rinfrescarmi, le uso un sacco. E d'inverno ovviamente non ho bisogno di rinfrescarmi e le uso principalmente per struccarmi. Sono veramente tanto imbevuse e quindi tolgono anche il trucco più pesante in una sola volta. Vi lascio giù nell'info box il video in cui vi faccio vedere come struccano veramente in un attimo anche il trucco più strong. Ovviamente la salvietta struccante non basta per detergere il viso e vado ad utilizzare il pad complex che è un dischetto esfoliante. Il pad complex ha una mini taschina dove possiamo introdurre le dita e c'è questa parte microesfoliante. Io vado a mettere un po' di tonico sopra il dischetto e poi vado con movimenti circolari su tutto il viso per rimuovere tutti i residui del trucco e anche per fare una microesfoliazione serale molto delicata. E ricordatevi che il segreto per una pelle sempre giovane è esfoliare e idratare. Come vedete ha tolto altri residui di trucco. Adesso vado a lavare il viso con un detergente specifico e torno qui. Come prossimo step utilizzo in combo due maschere Luxury Therapy, la black e la gold. Le utilizzo a zone. Nelle zone in cui preferisco idratare maggiormente e illuminare la pelle metto la gold mask e nella zona T metto la black. La gold mask la possiamo applicare anche proprio nel contorno occhi per andare a liftare la zona. La gold mask contiene 6 aminoacidi che hanno attività simile a quella della tossina botulinica quindi ti vanno a fare un effetto molto naturale ovviamente perché nella gold mask non ci sono ingredienti dannosi o comunque botulino e roba del genere. Contiene appunto questi aminoacidi che vanno a fare un lifting molto naturale però a duratura sulla pelle. Ovviamente lo step della maschera non vado a farlo ogni sera. Skincare routine ovviamente oggi vi faccio vedere quella più completa che faccio. circa due volte a settimana. I residui sul viso sono un po' difficili da togliere con acqua quindi anche perché è una maschera free off che deve asciugare vi consiglio di rimuoverli sempre con le solite salviettine di prima che non ci vuole veramente niente. Ci vuole un attimo. E mentre sono così bellissima vado un po' a giro per la casa faccio le cose che devo fare e aspetto 20 minuti e mezz'ora. Per togliere i residui sempre con la salvietta si tolgono veramente in un attimo. Tolti tutti i due residui delle Luxury Therapy la pelle si sentirà proprio al tatto che è molto più morbida, idratata, rinfrescata. Vado ad applicare il siero viso che è sempre della stessa linea del tonico quindi Pure Solution. L'altro è la Skin Toner, questo è Essence. Come successivo step applicate la vostra crema di fiducia e niente, poi possiamo lavarci i denti e andare a letto. Quindi buona skincare a tutti, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!